Un saluto a tutti i campanari di YouTube Oggi stiamo andando all'inaugurazione delle campane che fanno il rinterzo a Civitella d'Arna Eccoci qua, allora questo qua sopra è il campanile Proviamo a far vedere la cella campanaria Ecco, come ho detto prima c'è l'inaugurazione delle campane che fanno il rinterzo E c'è la festa delle campane Ragazzi, adesso vado a fare una riprescia dentro il castello Poi dopo vi farò vedere anche la porta della chiesa Bene, adesso vediamo un po' che c'è scritto Festa delle campane e del dialetto perugino Eh, bene ragazzi Adesso ecco qua il campanile Vedete? Bene ragazzi, adesso vi faccio vedere anche la porta della chiesa Eccola qua Grazie. 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 Eccoci sul campanile di Civitella d'Arna. Ed ecco qui la campana maggiore. Siamo sul campanile di Civitella d'Arna. Vedete qua il panorama di Perugia. E di là c'è Montesubascio e Assisi. Ecco, Petalignano d'Assisi. E di là c'è Montesubascio e Assisi. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.